I Rodigini e Rovigo si preparano a vivere la 541esima fiera d'ottobre che appunto a fine ottobre arriverà di nuovo nel capologo Rodigino. Già per il prossimo anno si pensa a spostare il Luna Park, sentiamo i Rodigini cosa ne pensano, i loro suggerimenti e che vento li piacerebbe vedere nella nuova festa. Sarebbe bello se appunto tornasse indietro dove era precedentemente però non essendoci tanti spazi insomma va bene anche dove è. Perché poi ripensandoci anche in quel posto lì sarebbe anche bello perché comunque collega anche Rovigo e Padova insomma quindi secondo me quel posticino lì sarebbe bello se restasse lì comunque. Beh allora io direi che il posto ideale visto che ormai quello di Villa Tremardi non c'è più da tanto e lì è il censere attualmente. Adesso non so cosa sta succedendo se perché non riescono a rinnovare o meno diciamo che lì è il posto ideale perché non ne vedo altri da poter mettere perché è una bella quantità di giosti insomma. Poi i servizi hanno funzionato bene quel bus di navetta, il trenino insomma il parcheggio stesso insomma direi che lì secondo me è l'unico posto. Altri non ne vedo che portarsi all'interporto è troppo distante e che posso dire di più. Pertanto io direi di continuare speriamo che gli addetti ai lavori si mettono d'accordo che continui ancora perché sennò sarebbe proprio una disfatta della nostra fiera insomma che ormai da 500 e più anni che ce l'abbiamo. E per il resto insomma porta un po' di folcore a Rovigo perché è sentita parecchio insomma di gente ne viene parecchia. Allargherei un po' di più le bancarelle perché vedo che ogni anno non so quale sia il motivo però diminuiscono. Avevamo via Silvestri che era bella piena ma non si può più. Tante anche la mia via qua via Zanella che è quella del comune io ho delle foto documentari che ho fatto sulle bancarelle c'erano anche qui. Perciò voglio dire cercare di ospitarne di più sarebbe un'ottima idea insomma ecco. Beh allora per quanto riguarda le giostre se non sbaglio attualmente sono al Censel quindi se verranno spostate non saprei dove si possono collocare non ne ho la palla di idea. Per quanto riguarda la fiera invece penso che la fiera sia uno dei momenti più belli se non il più bello a livello storico e culturale e gastronomico che c'è a Rovigo. Non ho neanche qua idea su che evento si potrebbe fare per la fiera però insomma è un evento importante e costruttivo e bello per la città. Beh intanto condivido l'idea che lì le giostre sono fuori luogo e per la pericolosità per i ragazzi e poi molto ristretto non è il luogo adatto. Capire dove, capire dove, lì stava bene dove era una volta e dove adesso c'è il comando della pulizia, lì era il posto adatto per la fiera d'ottobre. Speriamo che la fiera continui, quello sì, per le giostre proprio non avrei idea. Bisogna andare fuori proprio fuori dalla città a suo punto, in periferia, è difficile trovare una zona.